L'albero caduto nella giornata di ieri a Colle Maggio che ha colpito una macchina parcheggiata in un'area dove c'è la casetta dell'associazione 180 amici che si occupa di salute mentale, riaccende il dibattito sulla situazione degli alberi e sulla prevenzione in generale del patrimonio verde, ma anche sull'intera riqualificazione della zona di Colle Maggio, oggi in completo abbandono, con le poche cose fatte, comprese delle luci installate, messe dal 332, comitato sorto dopo il terremoto che da anni si batte per la riqualificazione dell'area. Ciò che è accaduto con l'albero fa riflettere perché all'esterno della casetta l'associazione spesso lavora anche con minori ed è zona di passaggio. Non è la prima volta che un albero d'alto fusto cade, l'ultimo episodio tragico nel 2006 quando nei pressi della stazione un albero cadde su una comitiva di persone sordomute, uccidendone purtroppo una. Senza manutenzione, senza prendersi cura, succede che appunto magari gli alberi si ammalano e cadono. Questa cosa è intollerabile perché questo è uno spazio pubblico, aperto, è uno spazio dove ci sono delle associazioni che svolgono legittimamente le proprie attività e non è possibile che appunto si possa rischiare la vita in questa maniera. Ugualmente avevamo chiesto alla proprietà, che è l'ASL, lo ricordo, quindi la regione, di accendere delle luci. D'inverno qui ci sono delle attività che vengono svolte anche per esempio con pazienti da sordomentale. Alle 5 d'inverno è buio, finiscono le attività e magari i pazienti psichiatrizzati che hanno anche a volte problemi motori, non so, si avventurano per questo parco senza neanche una luce. Il Comitato 332 e le varie associazioni tengono viva la zona con tante iniziative e attività, ma purtroppo l'abbandono e il degrado sono spesso alimentatori di sacche di microcriminalità e anche i cittadini chiedono una riqualificazione in quello che è un parco potenzialmente bellissimo se solo venisse curato. E poi c'è il progetto del Parco della Luna, nato proprio su input del Comitato sotto l'amministrazione Cialente e ripreso dall'attuale, al momento sembra immobile. Inizialmente l'amministrazione vigente si era un po' disinteressata, poi ha capito che invece questi fondi erano reali, aveva cominciato a fare qualcosa, ma poi adesso se si gira per l'area non c'è assolutamente nessun tipo di lavoro in corso. Collemaggio è un bene della città, anche lo stesso Parimano Arborio andrebbe valorizzato, è bellissimo, ci sono dei cedri incredibili, ma se si lascia tutto all'abbandono, noi siamo a disposizione con le associazioni, ci mettiamo a disposizione per prenderci cura, ma è ovvio che ci vogliono dei mezzi, delle risorse che da soli non possiamo mettere in campo e che quindi la proprietà si faccia sentire, la politica, ma anche il comune, anche se non è un'area di proprietà comunale, comunque è un'area della città questa, che viene attraversata, le cittadini è attraversabili, quindi è responsabilità di tutti, bisognerebbe fare qualcosa.